Siamo molto contenti di essere qui al Conad di Fidenza, perfetto, per dare ufficialmente il via anche per voi al grande progetto sportivo della Conad Cup, un'iniziativa che già da tre anni viene sposata anche da questo bellissimo Conad, ci sono anche i bambini del Fontanellato, voi siete due squadre molto forti che rappresentate tutto questo bacino di Fidenza e Fontanellato. Ci siamo ritrovati, già questo è bello perché magari in altri momenti non si poteva fare neanche questo ed è un momento per stare insieme e per dire con forza che noi ci teniamo a voi e vogliamo essere vicini il più possibile. Vi farei un grande applauso perché siete straordinari. Questi punti vendita vi appoggiano, senza di loro noi non riusciremo a fare tutto quello che riusciamo a creare per voi. Adesso do la parola a un attimo alla Loredana. Io vi faccio un grosso in bocca al lupo, noi ci crediamo. Certo è che la situazione è tale che vedremo i tempi e quando riuscirete a raggrupparvi e cominciare a fare i vostri allenamenti e le vostre partite. Forza Fidenza, forza Fontanellato e buon divertimento per quando sarà il momento. C'è da vincere questa Conard Cup. Adesso vi facciamo un regalo esclusivo. Ci sarà questa iniziativa per tutto il mese di novembre che potrete prendere quando venite a fare spesa con i vostri genitori. Uno di questi zainetti. Ti piace lo zainetto? Sì, moltissimo. A te piace? Sì, sì, è molto bello. Io farei un applauso ai titolari perché mi fanno questo bellissimo regalo. In bocca al lupo per tutto! In bocca al lupo per 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 l